buongiorno cosa vedevo dire nella parecchia ci vediamo vero siamo in uno strano stato dove i governanti si azzuffano fra di loro il popolo muore di fame muore di pandemie il messico messi la è stata provata da quelli non è stata provata quell'altro quelle dicono no quelli dicono sì si dice che fra i due litiganti il terzo gode e il terzo non è certo il popolo e né tantomeno il popolo del sud ragazzi dobbiamo metterci in testa una cosa questi perdono tempo ad azzuffarsi fra di loro chi è il colpevole di questa pandemia ricordate un vecchio video che feci all'inizio che disse bisogna chiudere le frontiere perché saranno gli altri a chiuderle verso di noi si azzuffano fra di loro e il popolo muore sta morendo di fame perché siamo tutti chiusi oltre noi siamo chiusi in casa e chi c'ha partita iva e altre cose e chi viveva la giornata come fa conte e company il popolo ha fame cos'è gli dai la stessa risposta della regina di francia se non ha panse il popolo non ha pane che si mangiassero le brioche allora tu chi sei il novello luigi xVI conte primo luigi sedicesimo di francia ma smettiamo la queste cavolate prima di tutto bisogna vedere come mai questa pandemia è arrivata al sud non vi meravigliate perché assoluto ci sono pochi contagiati rispetto al nord perché magari assoluto abbiamo rispettare le regole e al nord no e qualcuno che sta al nord ha detto che non bisognava chiudere niente prima le economie e adesso stanno morendo come le formiche il popolo muore per colpa vostra vergogna vergogna voi e chi vi appoggia anche del popolo stesso ma siamo alla resa dei conti del partito regionalista stiamo preparando qualcosa che dovrà farvi riflettere dobbiamo ottenere a tutti i costi uno stato confederale come quello svizzero perché in svizzera il popolo conta anche qui dobbiamo mettere al primo posto l'uomo il popolo dobbiamo mettere al primo posto non i soldi non il potere di chi va lì al governo e chi le ha mandate questo non abbiamo più dritto neanche di voto si abbiamo ci illudiamo di votare ma non votiamo affatto perché noi votiamo chi va una persona che ha scelto il partito non l'hai scelto tu l'hanno scelto gli altri per te e conta addirittura è stato trombato a queste elezioni di maio l'ha ripescato tanto per dire che voi non contate assolutamente niente a voi quello non vi piace a me sì e lo metto lo stesso perché voi non contate niente siamo delle rane bollite sapete la storia delle rane bollite e tutti questi anni il governo i vari governi che sono succeduti non dico solo questo che sta adesso tutti da destra a sinistra adesso la destra attacca sinistra sinistra attacca la resta tutte e due uguali siete uguali siete due facce della stessa medaglia con la quale avete usato per tradire il popolo quella medaglia è una parte di quei 30 denari vergognatevi giude si impiccò si pentì fece un insano gesto però si pentì voi avrete il coraggio di pentirvi e liberare il popolo arrivederci ciao